buongiorno ragazzi sono giacomo di diventerà milano.it in questo video dovremo fare un unlettering stamattina stavo lavorando solo al campanello esco vedo la postina al cancello che mi dice ho una raccomandata per te e dico ahia ahiaiaiaiaiai tanti che poi mi dà una raccomandata e una lettera normale apro la lettera normale è una lettera di credi agricole perché ho ricevuto la loro lettera perché ho aperto il loro conto corrente adesso facciamo un passo indietro andiamo a vedere perché è interessante aprire il conto corrente credi agricole poi andiamo a fare la lettering del bancomat il conto corrente credi agricole come ho già detto sul mio blog ci ho fatto un articolo a riguardo vi lascio il link qui sotto è molto interessante perché fino al 15 settembre offre il bancomat e il conto a canone zero inserendo il codice visa in fase di registrazione quindi veramente possiamo aprirlo e non avere più problemi a riguardo in più la cosa molto bella è che ci offre un buono amazon fino a 100 euro se adesso vi faccio vedere sovraimpressione le condizioni andiamo a spendere una determinata soglia nei primi 60 giorni di apertura del conto quindi se spendiamo almeno 250 euro 60 giorni che io ho intenzione di farlo diventare il mio conto principale almeno per 60 giorni quindi 250 euro rispetto di sicuro prendiamo 25 euro se ne spendiamo 500 in due mesi ben 50 euro se ne spendiamo mille fa brutto da dire ma sicuramente lo spenderò perché mille euro in due mesi vanno via come il pane se è una famiglia prenderò buono amazon da 100 euro quindi cosa veramente interessante ho trovato questi inserzioni ho detto beh proviamo ad aprirlo così intanto il documento sul blog e faccio il video del non lettering quando arriva al banco ed effettivamente ragazzi è arrivato al banco quindi andiamo ad aprirlo apertura fatta l'ho già tirata fuori per cancellare i dati personali possiamo vedere come ci sia il nostro bellissimo bello molto 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 bello possiamo vedere come comprende un po di numeri sia così il nostro bancomat adesso andiamo a toglierlo è una carta nexi quindi dovrei trovarla già attivata sul mio wallet nexi perché ho già la mia carta di credito con bpm e la carta tinaba la carta tinaba mi è arrivata l'ho attivata non sono trovata quindi mi aspetto che anche questa carta qualche possiamo vedere adesso ho sempre difficoltà a farlo vedere per coprire i dati personali comunque questa è la carta molto bella ben fatta mi piace e credo che come conto andare a sostituire bpm perché ha introdotto delle commissioni veramente alte e non mi piace questa cosa comunque se volete vi lascio link in descrizione alla recensione che ho fatto del di bpm a livello di sicurezza quindi mi è arrivato come raccomandata al banco matta e come lettera normale subito assieme mi è arrivato il pin della carta quindi se volete ordinarlo riceverete due lettere la raccomandata col banco matta e la lettera normale con il pin la cosa bella che viene spedito con poste italiane e di conseguenza nelle zone un po più sfortunate come ad esempio casa mia io ho due numeri civici sulla stessa via due numeri civici adiacenti che il mio vicino e io abbiamo lo stesso numero civico solo che lui è prima di me e di conseguenza tutti i coreri si fermano una buona un buon modo per discriminare la qualità di una spedizione quando effettivamente mi arriva la lettera nella buchetta correttamente composto italiana il problema non succede perché non è un bartolini che non conosce le zone il postino passa spesso quindi sa già che che abitiamo qua e che siamo noi vedere il cognome più che il numero e ce la porta quindi questa è una nota positiva detto questo ragazzi prima di chiudere il video vi dico che aprendo questo conto corrente potreste guadagnare altri 21 euro e mezzo grazie a un sito di cashback se volete scoprire qual è effettuate la registrazione a questo corso adesso ma dal jingle è presente sia il canale telegram a pagamento che quello gratuito su quello gratuito già parliamo di questo sito quindi potete andare trovate tutte le informazioni riguardo altrimenti in quello a pagamento chiaramente c'erano molti molti più bonus da sbloccare tutte le settimane e a questo punto è giunto l'ora di chiudere questo video fatemi sapere se è stato interessante se conoscevate questo bonus di credito agricole vi ricordo aprite conto corrente del 15 settembre con codice visa e avrete carte bancomat senza nessun tipo di costo di gestione in alternativa se volete vedere il video di recensione di questo conto corrente dopo qualche settimana dall'utilizzo fatelo sapere che perché appunto adesso tutte l'intenzione di usarlo intensamente per arrivare al buono amazon da 100 euro sono giacomo di diventerà un milano.it ci vediamo al prossimo video ciao ciao